ci siamo è partito il 1.2 in sera Bissabibagli Ludovico Ferraro ha già affrontato la prima girata sull'arrile di sinistra bene così anche su quello di destra accelera per raggiungere il primo possibile attraverso la girata che arriva Ludovico Ferraro Bissabibagli in chiusura con 15 688 15 6 8 8 ed è già partita primo barile per lei carabina Quigli ora in seconda girata tocca al barile l'entrata in uscita che rimane su ora al terzo ed ultimo senza probabilità andiamo a chiudere il tempo in 15 4 4 0 15 secondi 440 a ricevere l'applauso del dell'arena di Verona l'arena di Verona l'arena di Ovi e carabina Quigli la piena l'arena di Euro per 2015 la piena l'arena di Euro l'arena di Euro l'arena di Euro l'arena di Euro